Sono decenni che la destra politica italiana in prossimità del 9 novembre celebra la caduta del muro di Berlino, l'anniversario di quella ricorrenza che per buona parte della mia generazione è stata la prima volta nella quale voltavamo gli occhi verso il telegiornale. Non abbiamo ballato sulle macerie del muro di Berlino per ritrovarci in mano l'Europa dei tecnocrati, dei burocrati, attrazione tedesca, nella quale noi siamo una colonia. E per ricordarci, come faremo domani a Bologna, che la sfida della politica che vogliamo rappresentare è quella di rimettere gli italiani al centro. Gli italiani vengono prima di tutto, i loro diritti, i loro bisogni, l'interesse nazionale di questa realtà. E domani lo faremo rafforzando a Bologna quello che chiamiamo il fronte anti-Renzi, proprio perché Renzi, come Letta e Monti prima di lui, altro non è che il fantoccio di interessi che non sono quelli italiani. È la prima volta che il centrodestra è così spostato sulla Lega, non rischia di spaventare gli elettori moderati? Ma guardi, fermo restando che io credo che esistano pochi moderati ormai in Italia, nel senso che quelli che noi siamo abituati a chiamare elettori moderati sono persone tanto arrabbiate che oggi vorrebbero una politica capace di essere giusta. E penso che le notizie che vediamo anche in questi giorni facciano ben comprendere perché è normale che gli italiani siano arrabbiati. Dopodiché noi siamo abituati a seguire quello che decide il popolo. Oggi nel centrodestra bisogna dire che attualmente il partito più suffragato è la Lega, ma a noi interessa ricostruire un fronte che possa essere comune, selezionando le cose sulle quali siamo più d'accordo, ma anche portando ciascuno il proprio valore aggiunto. Io tra l'altro sono convinta che Fratelli d'Italia sia in potenza il movimento che nella coalizione può crescere di più in assoluto, proprio perché pur mantenendo una certa radicalità nelle scelte, nelle posizioni, lo fa con un occhio di riguardo anche ai toni e alla responsabilità che la classe dirigente ha nel essere un punto di riferimento. Però penso che sia giusto che ciascuno porti il suo valore aggiunto ed è quello che faremo anche noi, perché l'obiettivo è un obiettivo comune, è riprenderci alla nostra sovranità e alla nostra libertà.